Sindaco, è la notizia del giorno, ulteriori minacce sono arrivate in comune, lettere minatorie, si parla di una scorta, di una scorta che possa proteggerla. Cosa sta succedendo? Ma sono, questa ormai è l'ennesima lettera che arriva, sono lettere che non fanno assolutamente piacere per me, per la mia famiglia, però insomma questo non ci scoraggia perché qualcuno che ha evidentemente l'intenzione di in qualche modo scoraggiarci nella prosecuzione del lavoro che stiamo facendo. Purtroppo si vive anche in questo clima, è una situazione difficile ovviamente per tutti, per chi vive in determinate aree della città, per chi l'amministra questa città. Però questo non deve, non mi scoraggia, non mi, anzi ci carica ancora di più. Oggi ci siamo parlati con l'amministrazione, ci carica ancora di più perché il lavoro che si sta facendo è tanto nelle mille difficoltà che ci sono e merita di andare avanti. Si aspettava che si potesse arrivare a questo punto, che l'esasperazione in città fosse talmente tanta che potesse portare a questo? Ma l'esasperazione mi sembra che sia un po' a livello generale, un po' a livello nazionale che ci sia. Purtroppo poi si arriva anche a questi punti per tanti motivi, per un contesto molto confuso, per una violenza nella dialettica che purtroppo esiste, soprattutto sui social e poi trovi il fenomeno di turno che si prende la briga di scrivere. Purtroppo l'ho visto anche di peggio, io però nella mia città mi sento molto sicura. La scorta può essere di vari tipi, però la domanda è d'obbligo, ha paura di iniziare a vivere una vita sotto scorta? Non mi fa piacere, poi c'è una valutazione in corso da parte della prefettura e della questura, però in questo momento preferisco non pensarci.